Il sistema trasfusionale della Regione Calabria è uno dei più efficienti nel panorama sanitario nazionale. Il dato è stato sottolineato a Catanzaro nel corso di un seminario che ha visto la presenza del delegato dell'Aggiunta regionale per le politiche sanitarie Franco Pacenza, di rappresentanti del Ministero della Sanità e del Dipartimento regionale di tutela della salute e di numerosi operatori sanitari e delle associazioni di volontariato. Presentata la nuova rete trasfusionale regionale, il cui percorso di costruzione è stato avviato nel 2014. Oggi nel 2018 possiamo dire che la sanità calabrese ha raggiunto un traguardo importante, quello appunto di realizzare a pieno la rete trasfusionale regionale, ma soprattutto una rete assistenziale improntata sull'efficacia, sulla sostenibilità del sistema e soprattutto in linea con gli standard europei. Presente al seminario anche il direttore dell'Ufficio Trapianti e Sangue del Ministero della Salute, Maria Rita Tamburini, secondo la quale il modello organizzativo della regione Calabria è un vero e proprio fiore all'occhiello anche su scala nazionale. Le componenti di questa rete è il fatto di aver individuato, diciamo, intanto i tre dipartimenti interaziendali funzionali che sono allocati geograficamente secondo le tre aree, nord, centro e sud, ed il fatto che siano dipartimenti di medicina trasfusionale li rende veramente, diciamo, omogenei per competenza, li rende veramente efficaci per raggiungere gli obiettivi, obiettivi che sono pienamente rispondenti a quelli nazionali, cioè a quello di dare qualità, sicurezza, appropriatezza agli emocomponenti e quindi avere un'assistenza trasfusionale adeguata.